City Report Cari amici e amiche di City Report siamo tornati a esplorare un luogo che avevate già visto nei nostri video diverse volte in questi anni questa è una situazione, quella che si presenterà, che pensavamo essere risolta visti anche i cartelli che si sono avvicendati in questo periodo sulla sua facciata ma purtroppo vi rendete conto insieme a noi dalle immagini che non è andata proprio così la cosa che ci ha stupito di più è che c'è stato fatto un fuorisalone all'interno della struttura che invece oggi è un fuorilegge vi aspettiamo per queste nuove puntate, saranno due, seguiteci, ne vedrete delle belle